Bentornati al canale Amo gli italiani, con le ultime novità di oggi. La pressione della notorietà e le responsabilità che hanno gravato su di lei in età adolescenziale, Micolo Livieri dei Cesaroni si confessa Micolo Livieri ha affrontato spesso il tema della tossicità associata alla notorietà, soprattutto se questa si presenta in tenera età. Il progetto che più di tutti contribuì ad alimentare il coinvolgimento del pubblico nei suoi confronti è sicuramente i Cesaroni, fiction divenuta un vero e proprio cult nazionale Le vicissitudini che caratterizzavano la quotidianità della famiglia, così normale e comune, hanno conquistato il pubblico sin dalle prime puntate Il segreto del successo dei Cesaroni nasce proprio da qui. I telespettatori si sentivano parte integrante del cast, percepivano di dialogare con loro e assorbivano ogni battuta come fosse vera Un gruppo composto da attori del calibro di Tortora, Amendola e Ricci, ma che al contempo includeva giovani artisti emergenti quali Nicolo Centioni, Federico Russo ed appunto Micolo Livieri Mentre i primi sapevano come gestire la notorietà e il lavoro sul set, i secondi si sono ritrovati in un circolo infinito di attenzioni, talvolta non desiderate, pressioni, responsabilità e necessità lavorative importanti A questo proposito, l'attrice, nota principalmente per il ruolo di Alice, ha condiviso alcuni aneddoti importanti I Cesaroni, Micolo Livieri confessa l'inconfessabile. Una bomba fra le mani, così Micolo Livieri ha definito la fiction che l'ha resa nota Se non la sai gestire ti rimbalza addosso e ti fa pesantemente male L'attrice ha spiegato come i ritmi imposti dalla produzione spesso gravassero sulla sua quotidianità e soprattutto sulla spensieratezza che si deve avere a quell'età Aveva appena 12 anni quando entrò a far parte del cast della serie Mentre le sue compagne uscivano con le coetanee, Micolo lavorata 9 mesi su 12, spesso molte più ore di quanto fossero pattuite in fase contrattuale Quando si lavora sul set con una macchina così grossa, punto punto punto, si andava a lavorare con la fembre, punto punto punto, hai comunque una serie di responsabilità Un enorme successo che alla fine le ha consentito di conquistare il grande pubblico, ma che, come ogni cosa di tale portata, ha tolto alla sua essenza tanto quanto ha dato Il segreto della sua serenità dunque è da attribuire alla sua famiglia Micolo ha sottolineato come l'avere un punto di riferimento importante e stabile possa consentire a una giovane artista di gestire la notorietà in modo sano ed equilibrato Amplici Amplici